Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, it's fun, it is to ride in a one 3, 2, 1, go, buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video Vlogmas e bensì, raga Raga, è tutto, a tema Natale, siamo all'outlet No, oh sì, oh boh, non lo so Ora stiamo andando alla Lind perché a voi mamma dovevano prendere il caffè E quindi lo prendono lì e noi ci compriamo un bel cioccolatino Che ho all'interno Io sono un numero incanciabile, però ho proprio i capelli lisci Quindi sì E ora abbiamo mangiato e quindi mi sono fatta la cuore in zin Ora andiamo ragazzi, tutt'ottima Natale, non so se è notata, però c'è tipo io adoro E anche Babbo Natale è l'inco personale Ok, molto passion, tutto molto passion No, non c'è Babbo Natale travestito, c'è la busta di Babbo Natale Voglio sapere che io quando vedo come Natale travestito, mi sale l'anso Non lo so, ci spie No, non mi chiedete tempo Mi ha fatto qualche problemino Ma dove siamo? Lale, lì Sai quando non mi hai visto il logo della Lind? Stiamo andando alla Lind Ora entriamo Niente E niente No, non è niente Ci mettiamo Ok raga, allora siamo appena usciti dalla Lind Cioè in realtà a Mambo Babbo stanno ancora prendendo il caffè Noi siamo usciti un attimo perché abbiamo preso i cioccolatini Io, cioè dal caffè usciva anche questo E quindi ce lo siamo presi noi E io mi sono comprata anche un gianduiotto Quindi ora ce lo mangiamo E se io riuscissi ad aprirlo con una sola mano Senza farlo cadere E beh No, mantieni tu vai Vlogga Giulia Ma ora ve lo che è bene Ve lo faccio con questa mano Buono Però già non viaggio non lo so per nessuno Almeno a po' per il mio parere E' nata Ora Ci facciamo un giro E ci vediamo dopo Giulia Ok raga allora Siamo ancora all'Houlet Però raga non abbiamo trovato praticamente niente Ma mai si è comprata solo una ma io un pantalone Però per il resto non abbiamo trovato Letturalmente niente Quindi direi ottimo Quindi questo Black Friday Scusami Non serve praticamente Ah niente Raga ci vuoi una pizza Vai ragazzi vieni fuori Vieni Più Così Come Olavata O E' Tianto Più Si In Il P Scusami Raga ok raga allora ora proviamo a prendere un peluche vediamo un po' se ci riusciamo ma non penso proprio perchè vogliamo non mi ricordo ma vai dai non penso di ci riuscire ma ti metti che ne ho Mario non è un Mario no? vai ok vieni più avvicinati ancora vai più qua vieni di qua stop di poco più qua è arrivata ora non facciamo guarda il tempo guarda il tempo 7 6 5 6 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 7 8 8 9 8 8 9 9 10 10 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 19 19 21 22 23 23 22 23 Raga, lo spirito natalizio cresce sempre di più, yeeeeeee! Ok raga, allora, siamo ancora nel centro commerciale, abbiamo acquistato queste cose molto fighe, ovvero, tu li apri? No, aspetta, facciamo vedere un video, vabbè, vi do lo spoiler solamente così, vabbè, delle coperte particolari, avete capito che sono coperte, però, 6 particolari, e poi li vedrete, e sono troppo ebbi raga, sono troppo figli, li volevo da un sacco, e da un sacco, da quando li hanno messi, cioè da poco, però, no, da poco, un mesetto, e da quanto? Da tre mesi Tre mesi, i play da tre mesi Si, perchè non li hanno metti, vabbè, io li ho voluti sempre, però oggi è arrivato il momento Vabbè raga, io mi sono cambiata anche il pantalone, ne ho comprato un altro, perchè tipo quello che mi ero messa non ne potevo più, era scomodissimo, tipo... Fortissimo, allarga Addio, l'ho cambiato e ho messo questo leggings blue, che dalla telecamera è stato detto, oh mamma, felice Si Ok raga, allora Ciao mamma Ciao mamma Ciao mamma Ciao Raga, allora, intanto Raga, allora, mi stanno facendo semplice Raga, allora Mi hanno fatto nero nero, lei, la mamma Allora raga, abbiamo preso un nuovo calendario, perchè vi abbiamo detto che questi primi giorni sarebbero stati un po' che un calendario ancora un po' così, però li abbiamo comprati E infatti ne abbiamo comprato uno nuovo, e dopo ve lo farò vedere, oppure lo posso far vedere ora? Vabbè, lo facciamo vedere dopo Vabbè, lo facciamo vedere dopo, perchè alla fine del vlog apriremo tutto Ora stiamo in macchina, ed è buio come questo proprio Vabbè, ora andiamo e ci vediamo dopo Ciao Giulia, non ti vedi però vabbè Ok raga, allora Ok raga, allora siamo Perché mi copi? Oh mamma Ci siamo in un altro centro commerciale Guardate Hanno messo le lucine Anche se non è tanto addobbato Però tipo all'aria natalizia qui si sente un sacco E fa anche un bel po' freddo E non so perchè sto col giubile per provare Cogliatori tipo natalizi Di calda e ru Di calda e ru Un sacco di cose natalizi Non so se le avete mai sentite a Natale E quello a me e all'alle ci porta Lo spirito natalizio Almeno per ora a me mi sta facendo Troppo freddo Alzare troppo in aria Dalle eccitazioni Poi qui ci sono anche le decorazioni Scusa gli hanno messo due un'altra Decorazioni a tema Natale Infatti guardate 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 Eccole E quindi sono molto happy di tutto ciò Aiuto questi capelli Ora va freddo raga voglio solo entrare Quindi ora entriamo Allora sai che stavo pensando Una pizza di spattinaggio Nooo Ghiacciamo e scivoliamo Però si si potremmo fare Lo sai Vabbè ora vediamo un po' La pizza di spattinaggio Non sembra fredda Però quella è fatta No quello fa freddo È diverso là dentro No la non fa freddo Stai zitta Non la pensate Vabbè c'è tipo un po' Vabbè raga Scegliamo Decidiamo Facciamo quello che dobbiamo fare Vediamo Esatto Ok raga allora Ho comprato Un Reese's Lo volevo assaggiare Ma tu devi prendere Così Allora No no lo apro io Mantieni Faccio che c'è Allora Ti metti qua Ok apriamolo Raga speriamo sia buono Lo apriamo Lo assaggio Non mi piaceva il gusto Cioè non mi piaceva l'odore Non mi piaceva l'odore Che bello Che bello In pratica c'è lo sacchetto qui Oh che bello Allora fuori non hanno addobbato tanto Ma dentro si Vedete quello sacchetto lì Cioè non si vedrà mai nella vita La lì Questa qui Guarda un po' il braccio Buono Mi piace molto E quindi niente Vediamo dopo Ok raga allora Siamo appena usciti da quest'altro centro commerciale Ora Giulia sta mandando i capperi E noi abbiamo acquistato un nuovissimo calendario dell'avvento Così che dopo Li apriamo Li apriamo Li apriamo A casa Quindi al mio go Ci ritroveremo a casa Venite con noi 3 2 1 Go Cosa Ed eccoci a casa raga Ebbene si La magia ha funzionato Allora raga abbiamo qui dei nuovi calendari A parte il nostro piccolo calendario Volevamo prendere di questo genere anche quello più grosso Però erano finiti quindi ok Veniamo solo questo Abbiamo preso questo qui dell'aribo Che già l'anno scorso l'abbiamo preso Ma quest'anno Per chi si ricorda Ci sono delle novità Per quest'anno è molto più lungo Non è più quadrati Ed è diversa la fantasia davanti Quindi Poi invece abbiamo Abbiamo preso questo qui della Milka Che anche l'anno scorso prendemmo Però non ricordo bene cosa c'era dentro Quindi ok È un po' tipo È un po' indistrutto in realtà Guardate ora è un po' aperto Qui va bene Non fa niente Comunque è plastificato Quindi se non lo tocchiamo Dovrebbe andare bene Quindi iniziamo ad aprire Però io direi di aprire sempre quello lì Più piccolo Allora l'ultimo numero Perché non andate a vedere il 2 dicembre Oggi è il 3 dicembre Andatelo a vedere Oggi quindi Il 3 dicembre Ah raga aspettatevi Prima dei primi calendari Volevo dirvi di iscrivervi a Twitch Perché noi ci chiamiamo Marghe Giulia Kawaii Facciamo tantissime live Con la Playstation I giochi eccetera Quindi assolutamente Andate a seguire E un sacco di voi ci avete consegnato Di fare Fortnite Quindi noi abbiamo accettato il vostro consiglio Esatto Quindi iscriveteci Tutti i giochi vi piacciono E inoltre vi ringraziamo Per le persone che Si sono andate ad iscrivervi al nostro canale Un bacione Ci chiamiamo Marghe Giulia Kawaii E inoltre raga Ho aperto Ok Però Giulia non aprire quando parlo Perché vorrei parlare con calma Scusa Allora Scusatemi E inoltre Non aprirlo E inoltre volevo anche dirvi che Cosa volevo dirvi Mi hai fatto scordare Oddio Volevo dirvi Qualcosa Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi e penne Volevo dirvi che No raga mi sono scordata Allora Cosa volevo dirvi Beh Praticamente lo vogliamo Si magari Ora mandiamo il cioccolato Magari ti da qualche spicchietto in più di testa Ok Questi con le palline Pure se io le palline Le ho proprio viste Mh Non le metto Tale Quello è il più buono Mh Allora Volevo dirvi che Volevo dirvi che Mh Noi Dal primo dicembre Quindi dall'altro ieri Fino al 6 gennaio Caricheremo video tutti i giorni Fino al 20 dicembre Alle 9 In punto Alle 9 ciao Fino al 20 dicembre Alle 13 e 30 Dal 21 dicembre Fino al 6 gennaio Alle 9 Quindi tutti Attivate la campanella Ma non basta attivare la campanella Perché a molti di voi Proprio perché youtube sta cambiando un po' Non arriveranno le notifiche E quindi Cercate sulle ricerche youtube Marghi Giulia Kawaii E troverete un video tutti i giorni E nada Ora Io direi di aprire quello dell'aribu Io che faccio così Mi mangi No aspetta No apriamo quello della milk Restiamo sempre sulla cioccolata E poi dopo ci mangiamo le caramelle No lo voglio aprire io E no vabbè L'ho apri il doppio Vabbè Allora apriamolo E no però se apri questo No aprirlo tu Vabbè grazie Però non Bello I'm a white for christmas season Giulia vabbè apro io magari Eh va va Sì No questo lo trovo io perché mi piace Ok Ok Faccio vedere un attimo il calendario Molto liscio E questo Mamma mia lo stiamo aprendo tutto Mamma mia Questo qui è molto rotto Secondo me qua sono Ma dobbiamo aprirli tutti Allora dobbiamo aprirli tutti Quindi inizia tu Poi vado io Poi vai tu 2 1 Allora Dobbiamo aprire fino al 3 Perché appunto questi sono nuovi Oh che bello i cioccolati Però non li mangiamo tutti ora Perché io sono molto No ma in realtà nemmeno io Nel quanto voglio Anch'io Quanti ne sono? Oh mamma Raga aspettate questo si rompe No 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 Secondo me non ci arriva la vigilia Però vabbè 2 Qui E un altro cioccolatino invece C'è azzurro 3 Un babbo natale Un babbo natale è mio Oh Nora che è troppo carino Bello Molto bello 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 Aspetta vado a prendere un po' d'acqua Perché siete Bello 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 Ok nel frattempo che Giulia Va a prendere Allora quelle che ci sono uscite dalla Milka Sono Questo babbo natalino piccolino Carino E questi due cioccolatini Ad esempio l'anno scorso Non ricordo se l'abbiamo preso quello della Milka Però non ricordo che uscivano queste cose Quindi ok E nada Mi piacciono Sono troppo carini E sicuramente quando avrò voglia di cioccolato Li mangerò Ok E vi faremo sapere magari Nel vlog di domani Perché Penso che entro domani non arriveranno Vi hai aperto? No Scusatemi Ma Dovevo bere urgentemente Perché Io Allora Proviamo ad aprire questo E invece Aspettate Ecco Aspetta Cioè Allora Voi lo sapete fare? Ecco Allora Scusatemi Scusatemi Non tengo io Sa qui Guardiamolo Gli orsè Sono aspetti Gli orsetti 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 Il pupazzo Il pupazzo No aspetta Ah sono Tipo tutte le formine di Natale Tipo Il pupazzo di neve L'albereggio La farmiglia di Natale Dove? Dove? Ed infine Il numero Tu ha Tu ha La macchinetta del caffè Vabbè Allora Dove sto aprendo? Spero bene Fermo Fermo Ma cosa sto facendo? Ma che carina Sono altri orsetti Gli orsetti Gli orsetti Gli orsetti Gli orsetti Allora Gli orsetti Allora Qua Qua Quindi Ragazzi Allora E' molto happy Perché sono contenta dei calendari che abbiamo preso Allora Sono usciti due cioccolatini Di cui Il rosa sarà il mio Perché il rosa è il mio colore preferito L'azzurro è il tuo L'azzurro è il tuo colore preferito Non è vero Si è vero Lo dici sempre No Mi piace Interessantolo oggi Va bene Tieni Tieni No Questo è oreo Oh mamma Ma leggo bene oreo? Si Vediamo apriamolo No dai Vabbè ragazzi non si vede solo il cioccolato attorno Un po' io farò sapere Ok quindi noi 3 2 1 Quindi ragazzi Ma l'altro Ma l'altro E allora noi vi mandiamo un bacio per me Mua Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao